chi può essere una sorpresa su avanti apri la porta ma chi sarà mai a quest'ora e apri maria rosa questa l'ho fatta io per te con le mie mani tanti auguri perché oggi che festa è è il tuo compleanno a porca miseria me ne ho scordato tu sei nato il 22 aprile di te sei un toro e lei è vergine in tutti i sensi ci credo se rimarrai così tutta la vita ti faranno santa e per te non dovrebbe essere difficile maria rosa perché non ti fermi a mangiare con noi ma no ma maria rosa un sacco di cose da fare deve andare a casa è vero che hai da fare no hai visto lei deve andare a casa mettersi in faccia una crema per mandare via l'acne che sarebbero poi brufoli mettine tanta e altrimenti prova col vetriolo ciao vai e ciao ehi aspetta deve essere buono ma come te sei vilano artemio ma quanti anni ho 36 37 ho perso il conto 40 come 40 vuoi scherzare ma vuoi che non lo so ti te sei nato lo stesso anno che il tuo povero papà ha piantato il castagno sul confine del terreno ti te che l'hai stessa l'età del castagno 40 anni precisi te capi 40 anni allora sono vecchio e mola la torta oh se dice cosa vecchio sei ancora un ragazzo 40 anni e proprio come il castagno sono rimasto lì dove mi avete piantato e loro farò la festa farò la torta per festeggiare 40 anni passati qui in mezzo agli zulu a consumare la mia giovinezza ma date fa culo faminga in sci gioia te me pare tu un matto mi sono rotti coglioni io devo fare assolutamente qualche cosa non voglio fare la fine del castagno 40 anni per un uomo solo l'ultima spiaggia il signor se ne vuole andare al mare ma te non sai nuotare 40 anni per un uomo solo l'ultima spiaggia il signor se ha successato